Giorgio Mastrota Giorgio Mastrota, la compagna sta per partorire, quarto figlio in arrivo Giorgio Mastrota mostra il pancione di Floribet su Instagram. Il re delle televendite Giorgio Mastrota sta per diventare padre per la quarta volta 53 anni dopo Natalia, Federico e Matilde, avuti tutti da donne diverse. Lui stesso lo scorso 20 luglio aveva annunciato con estrema felicità la gravidanza della compagna Floribet, tramite un post su Instagram. Nella foto postata a luglio, Giorgio Mastrota aveva aggiunto come Didascalia che il suo pollicione aveva colpito ancora una volta. Mastrota ha mostrato il pancione della compagna ancora una volta su Instagram, aggiungendo come Didascalia, dai Leonardo e manca poco. . Mastrota ha così rivelato il nome del bambino, stavolta si tratta di un maschio, il secondo dopo Federico. . Di certo Mastrota appare molto orgoglioso per la seconda gravidanza della compagna Floribet. . La nascita del suo quarto figlio dovrebbe avvenire intorno a fine anno, infatti nella foto il pancione è già molto evidente. . . Giorgio Mastrota ama la famiglia numerosa. . . . Lui stesso dopo la nascita di Matilde avvenuta nel 2013 aveva confermato che non era ancora intenzionato a fermarsi con i figli. . Così è stato e ora in molti si chiedono se dopo il piccolo Leonardo potrebbe dunque pensare ad una quinta gravidanza. .